Domotecnica ha lanciato questo osservatorio per cercare di capire tre cose, qual è la situazione del parco di riscaldamento, di illuminazione e di domotico delle famiglie italiane e come e dove poter intervenire per efficientare i sistemi. Abbiamo scoperto che la maggior parte dei sistemi di riscaldamento sono ancora obsoleti, più del 70% sono caldaie tradizionali, quindi pochissimi usano le caldaie di condensazione e abbiamo scoperto che il solare termico viene utilizzato nel 4% delle abitazioni, che diventa 8 nel caso di case singole. Quindi esiste un potenziale enorme di sviluppo di tutto ciò che sono interventi di efficienza energetica sia in termini di caldaie di condensazione, sia pompe di calore che il solare termico. Abbiamo anche visto che la famiglia è la piccola e media impresa, ma in particolare la famiglia ha una predisposizione o una disponibilità a ricevere una proposta per efficientare la propria casa molto più ampia di quella che ci aspettavamo. Un buon 70% delle famiglie si dichiarano molto interessate e abbiamo scoperto, abbiamo individuato in circa 1 milione e 6 di famiglie quelle che vorrebbero addirittura nel prossimo anno fare un investimento sotto i 4 mila Euro per efficientizzare la propria casa e ce n'è circa mezzo milione di queste che vorrebbe addirittura fare investimenti più importanti. Cosa diciamo quindi? Diciamo che esiste un mercato potenziale enorme, c'è una disponibilità da parte della famiglia che sta crescendo e la cosa bella e la cosa interessante, ovviamente ci rende fieri noi di Domotecnica, è che la famiglia vede nell'installatore, nell'artigiano prossimo, vicino di casa e ben organizzato, l'interlocutore principale. Quindi tutto questo ci fa ben sperare per lo sviluppo di Domotecnica che nei prossimi anni crescerà, crescerà dando alle famiglie italiane delle soluzioni, soluzioni serie, eccellenti, certificate e competitive.